ok siamo live perfetto benvenuti ragazzi a questa ennesima puntata di face to face con l'italian society allo university of westminster questa sera abbiamo chef francesco panella detto brooklyn man e ho già avuto una piccola chat con lui secondo me ne vedremo delle belle e sentiremo delle belle lo faccio entrare subito ciao ciao francesco come stai alla grande alla grandissima ti vedo da te all'antica pesa circondato di bei quadri sono molto felice di cattro di stare qua con voi perché per me parlare con voi ragazzi è sempre fonte di ispirazione e oggi cercherò di dare qualcosa ma anche di apprendere tanto quindi grazie per questa bellissima opportunità grazie a te francesco grazie a te ci sentono tutti benissimo quindi possiamo iniziare ma già quattro persone che ci guarda allora la prima domanda è chi è francesco panella da dove viene e qual è il suo percorso di vita di studi e soprattutto lavorativo allora quanto tempo abbiamo un'oretta quindi cerca di concentrare la tua vita io sono solo non lo so perché sono sicuramente italiano ma in questo momento definirsi italiano è un po è un po banale secondo me no viviamo in un momento di globalizzazione e dobbiamo pensare in una maniera un pochino diversa quindi sono una persona che ha un approccio molto italiano alla vita è nato qualche anno fa e cerco di usare il mio tempo per fare le cose che mi piacciono e mi appassionano questo è un pochino quello che faccio mi potrei definire un po un menestrello dell'ottocento versione 4.0 ecco perché mi piace raccontare narrare le cose in modo mio amo la ristorazione più di qualsiasi cosa ho iniziato il mio percorso per motivi familiari da giovanissimo perché la vita mi ha messo davanti a una strada in salita però credo che sia stata una fortuna perché quando inizi una strada in salita alla fine quando riesci a camminare su una strada piana vai molto più veloce perché conosci bene le sofferenze la paura di perdere molte cose mi ha dato la possibilità di incarnare una realtà della ristorazione molto nuda e cruda ma anche piena di grandissime soddisfazioni ho desiderato sempre lavorare perché mi piace moltissimo lavorare mi piace socializzare tantissimo infatti è un momento molto difficile questo per socializzare ma ci ha aperto tantissime strade e tantissimi orizzonti a cui noi non eravamo abituati c'è un pochino se posso dirti rivalutato delle value che non abbiamo mai considerato come quello del tempo non abbiamo mai pensato quanto sia importante il tempo in realtà vivo oggi una realtà americana una città new york che è una in america usa che non esce in vacation cioè quando tu vivi in america sai che non hai nessuna vacanza non è come diciamo il classico prototipo italiano dove hai le settimane a disposizione ma in america non c'è questo tipo di di value e quindi cerco di portare avanti alla fine insieme ai miei fratelli quelle che sono le value di famiglia attraverso i piatti che hanno raccontato la storia del nostro territorio della nostra della nostra civiltà e cultura operiamo in diverse città ruma new york tu già lo sai abbiamo fatto un pop up add oa negli mirati tre anni dove abbiamo ci siamo divertiti a capire anche lì culturalmente non funzionasse ne apriamo un altro adesso a cavallù in un ambiente molto naturale e quindi questo è un pochino la mia vita sono stato a new york affascinato dagli stati uniti perché avevo un po l'ossessione degli stati uniti e ho sempre pensato che gli stati uniti per quel motivo che ti ho raccontato prima no per fatto della globalizzazione se tu pensi agli stati uniti come terra incredibile di opportunità hanno sempre regalato questa questa opportunità a tantissimi è un po la terra di tutti di chiunque e quindi dobbiamo iniziare a ragionare sotto questo punto di vista nel nel post pandemic perché è questo che ci aspetta e cosa vuoi che ti dico io sono stato un po generico in tutto perché se entriamo poi non lo specifico non usciamo più ma sono pronto a rispondere a qualsiasi domanda qua mi parlavi adesso appunto del del sogno americano quando è che sei entrato in contatto la prima volta con l'american dream e anche collegato a questo da dove nasce il soprannome brooklyn man guarda io sono nato nella nella nell'american dream perché ho fatto un percorso un po particolare molto difficile con roma dove ho redditato una situazione di ristorante a cent'anni ma ho indicato nella terza generazione della che mi compare a me la prossima e lorenzo una situazione abbastanza difficile dove ho dovuto recuperare quasi una situazione di bancarotta del mio ristorante percorso di cento anni di impresa le difficoltà si incontrano io ho dovuto I had to face that ho dovuto incontrare questo tipo di difficoltà una volta superata questa difficoltà ho cercato di immaginare un nuovo un nuovo step avevo desiderio di confrontarmi con delle nuove realtà e quindi ho voluto confrontarmi con gli stati uniti ma non avevo tante possibilità economiche quindi ho cercato di interpretare un mercato invisibile un mercato che non c'era perché non avevo tanti fondi e ho dovuto immaginare un qualcosa che non ci fosse quindi andare in america ma trovare un posto dove poter gettare le basi con pochi fondi l'antica pesa è un brand molto importante che è sul mercato da cent'anni è considerato un ristorante molto istituzionale istituzionale e tutti pensano che l'antica pesa hanno pensato che l'antica pesa è un ristorante che potesse comunque collocarsi a manatta e ho spiazzato tutti ma perché non potevo aprendo a brooklyn quando a brooklyn non c'era nulla io ho aperto brooklyn quando brooklyn era veramente un quartiere dove veramente c'era non c'era della bella gente era non c'era questa gentificazione che c'è adesso era un po isolato da tutto quindi è stato un pono shock di mercato tu conosci la bluminiscenza assolutamente no chiedo scusa è quell'arte di sviluppare da proprio dna una propria luce ok il 94 per cento del pianeta è formato da acqua ok quest'acqua si distende per chilometri negli abissi negli abissi tu puoi trovare dei pesci che si sono istinti tantissimi anni fa ma hanno sviluppato nel loro dna nel nell'arco dei secoli la bluminiscenza che quell'arte di tirare fuori una luce propria questa luce propria è la luce che ha dato la possibilità a questi esseri mostruosi perdoni ma così è di sopravvivere perché con la luce hanno potuto nutrirsi e sopravvivere nell'arco dei secoli ecco ognuno di noi deve avere la possibilità di affrontare i nuovi mercati e di capire le nuove possibilità che ci sono ognuno di noi ha una luce interna deve affrontare le grandi difficoltà usando la forza che abbiamo noi la bluminiscenza è una cosa che mi ha ispirato molto e ho trovato il mio mercato il mercato di brugli non c'era nessuno aperto la mio brand ho contattato tanti miei amici specialmente in california tra la silicon valley e silver lake in california dove c'era il movimento degli hipster e ci siamo detti tutti insieme che volevamo un po trasformare brugli e ci siamo fatti io ero in quota parte europea quindi italia ed abbiamo cercato di fare un bel progetto iniziai mi ricordo il primo anno un pochino dimenticandomi di antica pesa ma io ho bisogno di un momento proprio per me stesso di iniziare a pensare a un qualcosa di nuovo e usato brugli come laboratorio iniziai a fare dei delle vere e proprie farm nei rooftop dei building a brugli gente che non poteva sostenersi autonomamente e io ho fatto delle piccole farm su rooftop li ho affittati prima poi ci hanno iniziato a chiamare ci hanno dato gli spazi gratis per poter auto produrre lo stesso building c'era un'altra parte quella della silicon valley di miei amici che volevano invece sviluppare dal punto di vista economico williamsburg e quindi ho inventato un'applicazione per la gestione dei software dei dei ristoranti è stato un grande successo ed abbiamo fatto una cosa molto interessante questo è stato l'inizio del mio percorso poi ho iniziato venendo a brooklyn man ha il percorso di antica pesa ho affittato un garage perché era proprio un garage e ho iniziato a credere nel mio sogno ho aperto il ristorante che all'inizio è andato benissimo 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 e fu inaugurato da bru da 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 mardock e from the mayor bloomberg fu una cosa incredibile perché c'era un po la barriera del ponte c'era il ponte di brooklyn che difficilmente era una barriera che era psicologicamente molto difficile da battere per le persone di manatta nei miei clienti venivano da manatta e fu una sfida molto interessante perché io volevo abbattere questa questa barriera a tutti i costi ci riuscì scusami ti posso interrompere velocissimamente ci dai due date di tutto questo così che gli ascoltatori capiscono quanto incredibile quello che hai fatto perché farò nel 2021 2012 abbiamo aperto e sono andato nel 2010 a williamsburg ho fatto due anni di di apprendimento e di laboratorio dopo che nel 2012 ho aperto e tutto nei siti e nei giornali ti consiglio di andare a vedere questo articolo molto bello del new york times che mi definisce l'ambasciatore italiano a brooklyn proprio perché ho iniziato a portare la cultura italiana all'interno di un progetto che era un po' la scatola vuota e quindi per me fu veramente un viaggio straordinario ma anche per voi ragazzi che vivete fuori italia io credo che talvolta è meraviglioso rischiare di perdersi in un viaggio molto difficile che non partire mai io sono partito ci ho messo la faccia ci ho creduto e quindi sono stato spronato da questa cosa e mi sono divertito moltissimo il problema era che a williamsburg dove sono adesso da dieci anni perché ho aperto dieci anni fa eh eravamo visti dal ristorante un po' eh di Manhattan un po' trendy eh cool fichettino diciamo no questa cosa mi disturbava molto venne Madonna a trovarmi che nel frattempo a Roma io ho conosciuto Madonna mi venne a trovare e eh è successo un delirio perché la community di Brooklyn mi ha quasi respinto e allora lì è stato un momento molto difficile per me perché mi sentivo soddisfatto dal punto di vista professionale il ristorante era stradino ma non capivo perché la community di Brooklyn non mi non mi accettava e questo era il motivo non avevo ascoltato bene la vera anima di 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 Brooklyn allora ho chiamato in Italia ed ho parlato con il Gamble Rosso Channel it's like a food network in Italy tu conosci bene Filippo e gli ho detto certo fatemi fare un programma televisivo e lo voglio chiamare Brooklyn man perché voglio raccontare la storia delle realtà che ci sono a Brooklyn direttamente le storie from my neighborhood avevo capito che non avevo dato voce al mio neighborhood il canale mi ha ascoltato ho fatto un programma televisivo che è andato in onda per sei stagioni e ha dato voce a tantissima gente ho mosso milioni di dollari da Manhattan a a Brooklyn perché il turismo si è un po' trasformato perché ho cercato di cambiare il punto di vista di Brooklyn gli ho dato una voce nuova attraverso una narrazione che volevo dare intervistando eh queste persone e quindi è stato un processo affascinante quindi è dato la 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 spiegazione perdonami il tempo e se sono stato progresso ma Brooklyn man questa è la verità cioè è è nato così ed è ed è un programma che ha avuto un grandissimo successo eh sei stagioni ho intervistato centinaia di persone ho parlato con loro e questo mi ha dato la possibilità di eh intercettare dei data che sono sempre molto importanti io questi data attraverso le interviste le ho messe a sistema sulla mia set mind che dovevo avere a Brooklyn perché è tutta un mondo diverso da Manhattan che è un pochino più sempre americano ma un po' più europeo come sistema ok mentre Brooklyn viveva proprio di di determinate dinamiche che erano che e non avevo intercettato in quel momento caro Filippo chiarissimo chiarissimo poi dal programma si capisce benissimo ma vorrei sapere quanto è italiano Brooklyn dacci un'idea allora Brooklyn è italiana nelle fondamenta nel senso che eh nella prima migrazione delle delle primo dopo guerra tantissime eh famiglie che hanno portato come value la nostra quality fame la quality family value in America eh hanno fatto delle cose straordinarie meravigliose eh ed è pieno di eh di italiani a Brooklyn ma italiani di terza quarta generazione quindi diciamo che è mancato eh il fattore con di contemporaneità dell'Italia e questo ha creato un grande misunderstanding sulla cucina e la cultura italiana eh dei piatti delle ricette del nostro del nostro storytelling di tutta questa roba qua le famose fettuccine al sugo che ti ho visto mangiare più volte nei nel tuo programma ai noi allora adesso passiamo un'altra domanda è vero che lavori diciotto ore al giorno come gestisci il rapporto vita privata e vita lavorativa? Qual è il tuo superpotere? guarda il superpotere è quello di dare eh delle 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 priorità eh riesci a raggiungere i tuoi obiettivi solamente quando tu riesci a stabilire le tue priorità è una cosa molto importante la mia priorità è comunque la mia famiglia e do del tempo poco tempo ma big quality e quando tu dai una grande qualità poi alla fine eh la tua famiglia ti capisce no? eh e quindi tutto è stato possibile perché poi c'è una grande comunicazione tra me e la mia famiglia eh e quindi tutto c'è stato reso possibile la grande disponibilità che c'è stata da parte loro lavoro diciotto ore al giorno perché alla fine sai eh lavoro con un fuso diverso ho sei ore di differenza a volte sono in Australia piuttosto che negli Emirati piuttosto che a Los Angeles quindi a volte ho nove ore dodici ore otto ore mi sveglio non so neanche dove sto eh quindi è chiaro che le diciotto ore diventano queste perché poi devi recuperare il tempo che hai perso eh le ore che hai perso di lavoro e devi riconquistartene durante la giornata vedi le diciotto ore per me sono eh una cosa abbastanza anche eh normale se posso se posso dirlo eh in questo tempo riesci a infilarci anche un hobby o uno sport so che sei molto sportivo ma qual è quello che ti dà più carica e quando sei a me piace correre faccio tanta meditazione cerco di rilassarmi eh di cercare di capire eh sempre dove sono eh mi geocalizzo molto dal punto di vista eh proprio fisico ogni volta che vado in un posto faccio dello sport e cerco di proprio di di respirare e capire dove sono di toccare il terreno di vedere di avere proprio la percezione eh e respirare dove sono per cercare di non perdere poi la barra no della location di dove sei sei fortunato di essere uno dei pochi che può ancora viaggiare per lavoro però può ancora viaggiare eh adesso siamo in conflitto di Filippo ma riprenderemo a viaggiare al più presto la socializzazione è qualcosa che manca a tutti e questo è stato un esogena ragazzi quindi un fattore esterno che sta finendo ma dobbiamo guardare il lato positivo e mai pensare di tornare a fare quello che facevamo prima perché è un grande errore noi dobbiamo capire che prima comunque sia abbiamo commesso degli errori e capire quali sono stati gli errori che abbiamo fatto che abbiamo commesso prima e non farli più specialmente la generazione come la mia rispetto alla eh eh zita generation o millennium generation eh noi vi stiamo lasciando un mondo che non è proprio il massimo e quindi dobbiamo rispettarvi molto ascoltarvi molto cercare di capire le vostre esigenze perché voi eh pagherete un pochino il dazio degli errori che hanno commesso le generazioni prima delle mie e la mia e mi scuso di questo colgo quest'occasione per scusarmi di tutto ciò se fossero tutti come te e così moderni invece quelli della tua generazione probabilmente non ci sarebbe questo divario di cui stai parlando perché tu Francesco comunque porti anche l'internazionalità in Italia e porti l'Italia all'estero e non non ti chiudi magari in quel in quell'aspetto di nazionalismo invece che c'è ancora in Italia e che ancora tanto vediamo quindi io ti vedo uno tra i tuoi della tua generazione con la mente più aperta possibile e Grazie, un po' grande complimento per quello che mi stai facendo, grazie di cuore Allora, quali sono stati i maggiori ostacoli che hai dovuto superare per essere dove sei ora? Come li hai superati e che consigli daresti a un ragazzo che vorrebbe fare lo chef o aprire dei ristoranti in questo periodo molto incerto o nei prossimi due tre anni? Ci sono due grandissime sofferenze che io ho dovuto diciamo dialogare Una sicuramente è la diligenza e l'altra è il regret, oddio mi viene in inglese e non in italiano Dici il regret, il rimorso? Il rimorso, bravissimo La diligenza perché chi fa il lavoro mio deve vivere di una diligenza ferrea perché non è orale, devi stare sempre a ristoranti, hai una percezione della vita che è molto strana se ami quello che fai E poi il rimorso perché viviamo di rimorsi e allora io cerco di vivere la vita da ristoratore cercando di non avere questo tipo di rimorso Sfrutto tutte le occasioni che mi vengono, che mi capitano, le scelgo, do la priorità a quello che mi piace di più fare perché bisogna concentrarsi su quello a cui piace più fare E vado avanti, vado avanti e mi firmo quando proprio non ce la faccio però è difficile che rinuncio a qualcosa che veramente vorrei fare Queste sono le due grandi sofferenze a cui io mi relaziono spesso Quindi la famosa the discipline is freedom Quindi il fatto di essere sempre disciplinato poi ti permette di avere tempo per fare quello che è veramente importante Bravissimo Allora ho visto che di recente avete iniziato una collaborazione tra il ristorante Antica Pesa e la John Cabot University In un progetto chiamato Hospitality for the Future Ci spieghi cos'è, di cosa si tratta esattamente Guarda, io credo veramente che è un momento molto particolare All'inizio della pandemia io mi sono relazionato con tantissime persone perché volevo dare dei risultati tecnici La politica cercava certezze dal punto di vista tecnico, i comitati scientifici davano numeri statistiche Quindi insieme a un gruppo di amici e un gruppo di grandi professionisti come designer, università, l'università di Parma, ingegneri, strutture che comunque lavorano nell'Oreca Il gruppo Franco Costa che è un signore che ha fatto 6.000 ristoranti in tutto il mondo Ho parlato con tutti loro e ho cercato di fare un pool di persone per dare dei risultati tecnici Quindi come uscire dalla pandemia Quindi abbiamo organizzato delle macchine che potessero aiutare a purificare dei pannelli studiati da fantastici designer per dividere Perché ci hanno parlato che la plastica fa male e poi ci hanno detto di mettere la plastica nei ristoranti E per me questa è una cosa che era inconcepibile Ho presentato tutto questo alla Fiera di Parma con il ministro degli esteri Ci hanno definito un po', ci hanno ricollocato come Ristorazione 4.0, un articolo del Sole 24 Ore E mi ha fatto molto piacere Però queste erano cose tecniche Poi ho capito che al di là delle cose tecniche c'era la voce del nuovo consumatore C'era la voce di chi dovrà pagare il dazio dei nostri errori Come ti dicevo prima Che siete voi, che siete ragazzi Che siete quelli che desiderate un mondo diverso da quello che vi stiamo chiedendo Quindi ho detto, sai che c'è? Mi voglio mettere da parte, voglio dare voce ai giovani Voglio capire da loro cosa desiderano Cosa posso io fare per loro? Sono loro i protagonisti del nuovo futuro Io ho sempre pensato di vivere serenamente il mio presente Cercando di rienterpretare quello che verrà domani Cercare di progettare il futuro Ma il futuro siete voi E la risposta siete voi Quindi ho chiamato la John Campbell Che è un'università che ha diverse sedi E ha tantissimi studenti che vivono in tutti i continenti del globo E ho fatto partire un'iniziativa divertente Che si chiama Hospitalis for the Future Per avere le risposte che voi volete Voglio cercare di disegnare il mondo che voi desiderate E quindi attraverso i vostri desideri Io prenderò questo case studies E cercherò di realizzare quelle che sono le vostre aspettative Mi metterò in prima linea Per cercare di realizzare quelle che sono i vostri sogni Fantastico È una bellissima iniziativa Soprattutto perché l'ospitalità in Italia E quindi il turismo È la catena su cui si basa tutto Quindi bisogna curarla Bisogna preservarla E i personaggi come te possono fare solo che bene all'Italia Come un'altra domanda Invece ti chiederai una domanda più scherzosa Perché ho visto tutti i tuoi programmi Ho visto quasi tutte le tue puntate E nel programma Little Big Italy Ho visto che hai mangiato dei piatti Veramente dove ci vuole del coraggio Fammi sapere qual è uno dei piatti peggiori Che hai mangiato nei ristoranti italiani Ma guarda Fili Intanto c'è la grande Misandestendi che non ho mai capito Che l'americano comunque sia Ama la proteina Quindi in qualsiasi piatto che tu provi Loro fanno protein hat Quindi mettono Vabbè poi tu lo sai insomma Mettono chicken, prawns, shrimp And everything is possible to add as a protein They eat So Mi hanno proposto fettuccine alla bolognese con gamberi Piuttosto che pasta a meatballs con scampi Un signore vicino d'Allas Mi ha proposto questa spigola bollita Inoltre in the middle of the desert Eating sea bass It's not easy at all But combined with cappuccino As a sort of like combined niche So Because they are thinking that caffeine works with the sea bass And I ask him Please Can you stop it? So Sometimes I face With all these kinds of problems around the world And I become so upset But I respect all the like Prospective of the food Because food is very democratic Scusa mi sto parlando in inglese Il cibo è la cosa più democratica che esista al mondo Io la rispetto molto Certo però che bisogna iniziare a fare un effetto un po' Teaching su certe dinamiche Perché altrimenti poi alla fine ci si sente male proprio Va bene la democrazia Ma il guazzetto Di che cosa mi hai detto? Che ha messo col branzino bollito Prego cambiamo domande Sicuramente che tu mi ci fai ripensare Mi fai Mi prenderei Ti assicuro che però anche Anche in Inghilterra Anche in Inghilterra sono dei bei cani Su questo punto di vista Cioè È una bella competizione Sono stato in Inghilterra Sì devo dire Eh no certo Al piatto peggiore è una bella competizione sicuramente Invece qual è al presente in questo momento La sfida più grande che avete E qual è il vostro ruolo specifico da ristoratore Come avete intenzione di superarla Me ne hai già un po' parlato Però vorrei farti fare una sorta di appellativo Un po' ai ristoratori Che ora sono una categoria Che sono veramente disastrati Come Tu sei in contatto con loro Che cosa fate? Sono disastrati ristoratori E credi mio Eh ricevo Circa due trecento email O messaggi In privato Dei ristoratori È un momento molto difficile Per la ristorazione Però Io Anzi uso questa piattaforma Per Dire a tutti i ristoratori italiani Che la nostra biodiversità È un qualcosa di incredibile da raccontare È che se è vero Che stiamo incontrando Un momento difficile E difficoltà È proprio dalle difficoltà Che bisogna ripartire Perché è dalle difficoltà Che nascono i successi È dalle grandi difficoltà Che nascono le storie grandissime È dai grandi cambiamenti Che nascono le sfide più impensabili È dalle immaginazioni Perché adesso è proprio È un po' immagini Si può solo immaginare un futuro Nella ristorazione adesso Per la situazione di disastro che abbiamo Ebbene l'immaginazione È secondo me L'anticamera della realtà Bisogna immaginare una nuova realtà Fatta di un mercato clamoroso Perché ripartirà tutto C'è la luce in fondo al tunnel Dobbiamo avere la capacità Di avere un grande focus Sul futuro E di capire che quello che abbiamo noi Come storia da raccontare Come storytelling Con la nostra cultura Con la nostra incredibile biodiversità Con la nostra regionalità Così incredibile È una roba che gli altri non hanno E dobbiamo usarla E metterla a sistema Tra di noi Questo è molto importante Un altro messaggio che voglio lanciare Si parla molto di sospita Ebbene è venuto il momento Veramente di ragionarci sopra Ogni ristoratore deve capire Che ha un potere impattante Sul prossimo impressionante Tu immagina ogni ristoratore Che può accogliere Magari ogni sera 100, 200, 300, 400 persone Quanto potere ha questa persona Nel comunicare a tutta questa gente E allora io voglio rivedere I delfini a Venezia Voglio rivedere i pesci Nel porto di Napoli Voglio ridisegnare un mondo Che finora abbiamo poco considerato Dobbiamo tornare a fare Questo tipo di ragionamento E dobbiamo capire Che la sostenibilità Non è una cosa da usare Solamente per film commerciali Perché tanta gente Usa la sostenibilità Adesso per Per fare Per farsi pubblicità È un po' Over abused Ma bisogna fare Fax Bisogna fare cose Action We need to be on action So per mio canto Ho acquisito Ho acquisito Mille alberi Io prendo Ogni anno circa Dieci aerei Questi dieci aerei Emettono Centocinquantamila Kilogrammi di CO2 All right So Mille alberi Sono Lo stesso potere Impattante Dei viaggi che faccio E quindi Ho fatto una foresta Con sei progetti Che ho sposato Che si chiama Antica Pesa Forest E ne voglio regalare Una a voi Filippo E ti manderò un email Con questo invito Mettiamo il link In descrizione Per chiunque volesse Iscriversi Poi in questo canale YouTube E sul podcast Che poi facciamo Il programma che faccio io Dove io regalo gli alberi Cioè io non chiedo nulla Io li ho comprati E li voglio regalare Perché voglio dare Un segnale E quindi In poche parole Bisogna essere in azione On action E cercare di fare Delle cose divertenti Quindi come Antica Pesa Ho fatto questa Antica Pesa Forest Che mi permetterà Quanto meno Di sentirmi un pochino Più sereno Quando prendo un aereo Per andare a controllare Le mie aziende Fuori Che figata Bravissimo Dov'è la foresta? È in Africa? Sono 6 progetti Che ho sposato In giro per il mondo Quindi sono Haiti Congo Everywhere Very cool project Vi darò Un albero Per Italian Society E mi fa piacere Che voi ne abbiate Uno A vostro nome Nella foresta Antica Pesa Per me è un onore Avervi Nella grande famiglia Di Antica Pesa Forest Stai facendo qualcosa di bellissimo So che esistono altre piattaforme Che lo fanno Però tu sei il primo italiano Che sento che fa questa cosa Non l'avevo ancora sentito Quindi Interessante 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 Ma una domanda giusto Perché così poi magari Appunto Chi si interessa Proprio alla tipologia dell'albero Puoi scegliere quale albero Piantare Cioè tu regali E hai più alberi Vorrei un banano Quali sei progetti E puoi decidere il progetto che vuoi Ogni progetto Da un frutto E ogni progetto Poi aiuta I farmer Che piantano Gli alberi Tu pianti l'albero Ma poi il farmer Pianterà per te Il tuo albero E quindi riceverai un passaporte E puoi seguire anche L'albero In diretta Puoi vedere insomma I frutti che ti dà E via dicendo Quindi è un grande progetto Molto ambizioso Parto con mille alberi Ma ne voglio fare Molti di più E cercherò di arrivare Nel 2023 A impatto Meno uno Con tutte le nostre aziende Grandissimo Francesco È bellissimo sentire queste cose Perché Noi in università Poi chi studia business Le studia Le studia Ma non le sente quasi mai Almeno le grandi aziende Da noi si usa l'espressione Green the roof Ma mettono tutte volte Nel loro report Sustainability Che sono verdi Eccetera Poi danno solamente Lo 0,5 1% Alle attività sostenibili Invece bisogna Come dicevi tu Imparare a Far diventare Queste attività sostenibili L'ingranaggio del business E non poi dare L'1% di quello che guadagno Per la sostenibilità Devono proprio Entrare in contatto Bravissimo Filippo Sentimi Chi non ha capito Che nel post pandemia Dobbiamo ridisegnare Le nostre vite E allora Non ha capito Veramente nulla Di quello che è accaduto Bisogna riflettere Su quanto è accaduto Ad avere molto rispetto Per le generazioni future Perché gli stiamo Consegnando un mondo Che è un po' In bilico E quindi So much respect for the future And for all of you guys And I will always support that Fammi sapere un attimo Tu che sei appunto Nella ristorazione Perché poi come ti dicevo Noi nei nostri Nelle nostre lauree Studiamo quelle super compagnie Però voglio sapere Com'è sicuramente I ristoratori Hanno rilocato Alcuni produttori Da avere magari Dei prodotti Che arrivavano Da Shanghai Dal Giappone Eccetera Da avere dei prodotti Più vicini Dopo la pandemia Sai come i ristoratori Stanno Compiendo Questa transizione? Guarda allora La transizione In realtà È una domanda Molto particolare Perché è controversa E Allo stato economico Dei fatti Proprio per parlare In maniera Spicciola Economica Tanti piccoli Produttori Non esistono più Non hanno più La fortuna Di essere in commercio Perché Ahimè Sono falliti Chi ha avuto Il coraggio Di sostituire Le produzioni Facendo la banca Per loro Ha potuto permettere Una resistenza In vita Di questi piccoli Produttori Io l'ho fatto Con due o tre Produttori Che erano Il cui ero Troppo Fizionato Quindi mi sono Sostituito Da banca Ho fatto Da credit Per loro Tanta gente Sta cercando Di lavorare Con il chilometro Zero Tantissimi E questa è una Cosa molto bella Però Come ti dicevo Prima We need to be real We need to be real Perché Non dobbiamo Farlo solamente Perché poi Lo metti Su website Devi farlo Perché ci credi Bisogna farlo Perché è una cosa It's a matter of Lifestyle Certo Perché la cosa Che mi dici Che i produttori Piccoli Stanno fallendo È tristissima È reale Ma è triste E sarà ancora Più difficile Perché ovviamente Quelli grossi Stanno su Anche dopo la pandemia E loro Poi possono Continuare A spedirti I loro prodotti Da altri paesi Però allora Torniamo appunto a crapo Con una globalizzazione Troppo estrema Che nel momento In cui si accende La fiamma È di nuovo Covid 2.0 Quindi È difficile Dovete proprio Tutti voi Tu lo fai Ma i ristoratori Devono impegnarsi Su questo In futuro È una grande battaglia Che spero che tanti Possano accettare Come sfida Adesso la priorità È ripartire E concentrarci In un nuovo A ripartenza E ricollocare Il Made in Italy Nel modo migliore Che ci sia Ed accettare La sfida Della globalizzazione Con un approccio italiano Perfetto Grandissimo Francesco Abbiamo una domanda Qui da Francesca Che metto Non so se la vedi Sullo schermo Ciao Franci Come stai? In che modo Sei stato influenzato Dalla cultura E dai mindset americani Sia in positivo Che in negativo Ma guarda Io Se posso dirti Sono stato influenzato Influenzato No Diciamo ispirato C'è una persona Che si chiama Frank Miller Frank Miller È un art director È un regista Ed è un grande disegnatore Non so se lo conoscete Ma lui Ha fatto Sin City Ha fatto Batman E io ho avuto La fortuna Di conoscerlo E mentre mi parlava Del film Che stava dirigendo Che stava andando In onda Fine anni 90 Mi raccontava Di Batman E me lo raccontava In un modo Che io Lo potevo leggere Lo potevo immaginare Cioè Frank Miller Mi raccontava Di Batman E mi faceva Uno schizzo Su un pezzo di carta E mentre lui parlava Io immaginavo Il film E quando ho visto Il film Ho visto la scena Che lui mi ha raccontato A tavola Quindi Come ti raccontavo Prima L'immaginazione L'anticamera Della realtà Questa è stata L'influenza Che io ho avuto Dalla 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 cultura americana La stessa cosa Mi è successo Con Kate Haring Kate Haring Voi tutti sapete Chi è Kate Haring È un grandissimo artista Un grafitista Che negli anni 90 Ha fatto una battaglia Personale Su tantissime cose Parliamo adesso Di diversità Che è un tema Molto comune Che sta Caro a tutti Ebbene Lui era uno Che effettivamente Poteva Poteva Diciamo Incarnare Che ruolo Ma era un uomo Talmente passionale Kate Haring Era talmente incredibile E talmente attuale Che è come se per me Fosse trasportato Ad oggi La tecnologia Oggi È molto Come si dice Intuitive Intuitiva La tecnologia adesso È molto intuitiva Ecco I disegni di Kate Haring Negli anni 90 Se voi li immaginate Tutti i tubazzini Tutti messi insieme Era un'arte Molto intuitiva Quindi lui Usava la sua Umanità Il suo Intuito In un qualcosa Di incredibile Che secondo me È molto attuale Quindi Frank Miller E Kate Haring Sicuramente sono due persone Da cui ho tratto Una grande ispirazione E invece Domanda scomoda In negativo In negativo Domanda scomoda In negativo Che cosa dici No Questo è un aspetto americano Che ripudio 100% Sì Guarda Ma insomma Lo sappiamo tutti Il Junker Il Junk Food È quel tipo di cibo Che ha creato Il problema Dell'obesità Negli Stati Uniti E quindi è una cosa Che io ho sempre combattuto Ed è Ed è per questo motivo Che a dicembre Ho lanciato il mio libro Che tra l'altro È molto bene Che si chiama Forse non tutti sanno Che in America Dove ho raccontato Trenta storie ispirazionali Molto belle Dove ho messo al centro Degli esempi buoni Di cucina incredibile Di storie Pazzesche Che hanno influenzato La cucina italiana Fin Dall'era dei nativi E quindi Quello è stato Il mio modo Per far capire A tutti Che l'America Non è solo Junk food Ma è anche Motivo di ispirazione E di grande Reputazione E l'ho voluto Accentuare In un progetto Che Filippo Stralamente Nessuno ha mai fatto prima Non so per quale motivo Però a me Mi piace sempre Cercare di concentrarmi Su qualcosa Che capisco Che manca E quindi Siccome gli Stati Uniti Mi hanno dato tanto Volevo centrare Il problema Su delle eccellenze Italiane Che partono appunto Dalla storia Dei nativi In poi Un libro molto bello Chiarissimo No ma infatti Poi mettiamo tutti Voi avranno letto Tanti di pure Avranno letto Però è un libro Che ha avuto Un grandissimo Un grandissimo successo Perfetto Allora abbiamo sempre Un'altra domanda Senta la Francesca La leggi Sì poi Francesca Francesca è stata sola Qua a fare la domanda Mammaggia la miseria Allora Se non fossi stata appassionata Al mondo della cucina E della ristorazione Che lavoro avresti fatto? Fra I didn't have option two Io non ho avuto Un'opzione number two Perché ho dovuto aiutare Molto presto La mia famiglia Perché era in grande Difficoltà Mio papà e mia mamma Erano separati E mia mamma era Very Mid class Very like a classic Italian family And my father Was the opposite But very Like a poor man With nothing Ma lui era un grandissimo genio A lui mi piaceva tantissimo E mia mamma Non voleva che andassi Da mio papà Al ristorante Costrinsi mia mamma A mandarmi Da mio papà Negli anni E una sera Al ristorante Il mio papà Per qualche motivo Mi dimenticò Al ristorante Io dormi Al ristorante Di notte Mi svegliai di notte Capendo che quel luogo Era il luogo Che già mi apparteneva Era il luogo Dove io Volevo spendere Parte della mia vita Anche perché Volevo aiutare Il mio papà A ritrovare Una via Diciamo Un pochino più Giusta E quindi ho messo Tutto me stesso Fin da bambino Per cercare Di recuperare Quella casa Per me Perché per me Quella casa Voleva dire Il ritrovare Comunque Gli affetti Ritrovare la famiglia Quindi io nasco Ristoratore Circa A undici anni E da là Inizio ad avere La mia carriera Probabilmente Adesso sono Un conduttore Televisivo Cerco di raccontare Forse Non lo so Forse sarei stato Un ambasciatore Un ambasciatore Sì Ok Sai l'ambasciatore Del cibo Negli Stati Uniti E lo sai Nel mondo Quindi forse L'avrei fatto Abbastanza bene Un ambasciatore Ok Allora Io direi Guarda se ci sono Altre domande Se no poi Comunque ce le possono Lasciare Adesso riesce Francesca Guarda Lo so No Non c'è Non c'è Nessuna domanda Comunque allora Direi che Per me abbiamo fatto 42 minuti Di chiamata Intensissimi E risposto a tutte le mie domande Pensavo ci aversi messo Molto di più Invece è stato Velocissimo Allora Ricordo a tutti Che poi questo episodio Lo mettiamo Sul podcast Italian Minds Metto poi sotto Le descrizioni Dove peraltro Credo che uscirai Subito dopo Massimo Bottura Quindi Facciamo Doppia puntata Una dopo l'altra Sulla ristorazione Francesco Io ti aspetto A Londra Ti aspetto Io ti aspetto Dove tu A Rome Non ci diamo Limiti Per incontrarci Ricordiamoci Che siamo Cittadini del mondo Abbiamo il passaporto Italiano Ma dobbiamo Avere un approccio Di globalizzazione Con una forte Identità italiana E trasportare E trasportare La nostra italianità Dove ci porta La vita Dove ci porta Il nostro Dove ci porterà Il nostro futuro Grandissimo Francesco È stato un grandissimo Piacere Grazie Filippo Qualsiasi cosa Ti saluto Sempre a vostra disposizione E viva il giovane Ricordatevi che voi Siete il nostro futuro E che voi Sarete la salvezza Del nostro pianeta Molto probabilmente Ragazzi Ok Grazie Filippo Grazie Italian Sicurati Ciao Grazie Grazie